Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Questa conferenza stampa che abbiamo convocato per presentare la manovra di bilancio che è stata approvata nel Consiglio dei Ministri di ieri sera. Ringrazio per la presenza a questa conferenza stampa il Ministro di Infrastrutture e Vice Premier Matteo Salvini. Avrebbe dovuto essere qui con noi stamattina anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, altro Vice Premier che è però impegnato con il Ministro Grosetto in una missione nei Balcani Occidentali. Ringrazio ovviamente il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il Vice Ministro Maurizio Leo e il Ministro del Lavoro Marina Calderone che ovviamente ci aiuteranno, mi aiuteranno a raccontare questa manovra di bilancio. Dunque, io voglio dire a Monte che sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto con questa manovra finanziaria per due ragioni fondamentali. La prima è che noi abbiamo scritto questa legge di bilancio e abbiamo scritto una legge di bilancio che non si limita, diciamo così, a un lavoro ragionieristico ma fa delle scelte politiche. La presentiamo oggi, oggi è 22 novembre, il Governo ha giurato il 22 di ottobre. In appena un mese questo Governo ha scritto, presentato una legge finanziaria, una manovra di bilancio che ricalca e racconta di una visione politica. Quindi sono molto contenta di come abbiamo fatto questo lavoro e sono contenta del fatto che l'approccio che abbiamo avuto nella stesura di questa norma per come lo vedo io è più o meno l'approccio che si avrebbe nella definizione di un bilancio familiare. Quando ti occupi del tuo bilancio familiare e le risorse mancano non stai lì a preoccuparti di cosa è utile ai fini del consenso, stai lì banalmente a preoccuparti di cosa sia giusto fare perché quella famiglia possa crescere nel migliore dei modi. E quindi si parte dalle cose utili, ovviamente da quelle irrinunciabili, si fanno delle scelte, ci si assume la responsabilità di quelle scelte. è il, diciamo così, l'atteggiamento con il quale abbiamo approcciato questa norma. Significa che questa è una manovra figlia di scelte politiche, come era giusto e normale che fosse per un governo che politico è. Noi abbiamo deciso quali fossero le nostre priorità, abbiamo concentrato le risorse su quelle priorità. Io la considero una manovra coraggiosa, la considero una manovra coerente con gli impegni che noi abbiamo preso con il popolo italiano e la considero una manovra coraggiosa nella misura in cui è una manovra che scommette sul futuro. Alla base della norma, che come voi sapete Cuba ha complessivamente 35 miliardi di euro, ci sono dal mio punto di vista fondamentalmente due grandi priorità. la crescita, che ovviamente significa soprattutto mettere in sicurezza il tessuto produttivo, che significa incentivare il lavoro, che significa premiare chi in un momento di difficoltà si rimbocca le maniche con riconoscimenti, con attenzione da parte dello Stato e delle istituzioni e l'altro grande priorità è la giustizia sociale e cioè a dire l'attenzione alle famiglie e una particolare attenzione ai redditi più bassi e alle categorie più fragili, che vedrete durante il racconto che faremo delle nostre scelte. Ovviamente, come avevamo promesso, la voce maggiore di spesa di questa manovra di bilancio proprio per mettere in sicurezza il tessuto produttivo e le famiglie riguarda il tema del caro bollette su una manovra complessiva di 35 miliardi i provvedimenti destinati al caro energia sono circa 21 miliardi di euro. Ovviamente, le due scelte fondamentali riguardano i crediti in imposta per le aziende. Voi sapete che è previsto un credito d'imposta che si applica sulla parte dell'aumento per le imprese rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, noi confermiamo e aumentiamo i crediti d'imposta che passano dal 40 al 45% per le aziende energivore e dal 30 al 35% per le aziende non energivore. Questa misura cuba circa 9 miliardi di euro. L'altra scelta fondamentale riguarda le famiglie. Lo Stato, come sapete, interviene per calmirare le bollette per le famiglie fino ad oggi con massimo 12 mila euro di ISEE. Noi portiamo i 12 mila euro a 15 mila euro di ISEE. Quindi la platea delle famiglie per le quali lo Stato interviene per calmirare le bollette si allarga. Ma chiaramente la misura si concentra sulle famiglie più bisognose. Anche questa misura cuba circa 9 miliardi di euro. C'è ovviamente l'eliminazione degli oneri impropri dalle bollette per circa 500 milioni. C'è la proroga dell'IVA al 5% del gas sul gas fino a marzo. Vengono recuperate una parte di queste risorse da una ridefinizione della norma sugli extraprofitti che dovrebbe superare alcuni degli elementi che erano alla base delle contestazioni che sono state mosse e consentirci di recuperare circa 2 miliardi e mezzo anche perché noi alziamo l'aliquota sugli extraprofitti dal 25 al 35%. Al netto dell'energia, che come dicevamo è sicuramente la voce più ampia in questo bilancio e come dicevamo della messa in sicurezza delle famiglie e delle imprese molta attenzione riserva questa manovra al tessuto produttivo, all'attenzione alle imprese, all'incentivo al lavoro. Qui le iniziative che noi mettiamo in campo sono molteplici, ricalcano ovviamente gli impegni che avevamo assunto nei nostri programmi e dunque il mandato che avevamo ricevuto dagli italiani. Ci sono in questa manovra di bilancio tre tasse piatte. C'è la tassa piatta sui redditi incrementali, cioè alle partite IVA che hanno un aumento di fatturato rispetto al massimo picco del triennio precedente. noi applichiamo una tassa piatta del 15% sul maggiore utile conseguito, quindi su quello che si è fatto di più, con una soglia massima di 40.000 euro. Che significa che la misura è una misura rivolta al ceto medio, non è una misura per favorire i ricchi, è una misura che serve a riconoscere il lavoro e i sacrifici di chi in un momento così difficile riesce a fare meglio di quanto non abbia fatto in passato. C'è l'aumento della tassa piatta al 15% per gli autonomi che fino ad oggi era legata a un fatturato di 65.000 euro e viene portato a 85.000, poi per i dettagli ovviamente lascerò la parola ai ministri competenti, e c'è per i lavoratori dipendenti una tassa piatta che arriva al 5% sui premi di produttività fino a 3.000 euro. Questa misura, fino ad oggi la tassa era 10%, sui premi di produttività fino a 3.000 euro, noi la portiamo al 5%, fa ovviamente il palio con l'estensione del fringe benefit che abbiamo già approvato, ricorderete, i 3.000 euro di contributo che il datore di lavoro può dare a fine anno al lavoratore che noi abbiamo totalmente detassato con il precedente decreto. C'è il taglio del cuneo fiscale, noi non solo confermiamo il taglio del 2% per i redditi fino a 35.000 euro interamente il lato lavoratore che era già previsto e che noi abbiamo prorogato, ma aggiungiamo un ulteriore 1% di taglio del cuneo fiscale che arriva quindi al 3% per i redditi fino a 20.000 euro. Quindi un'altra misura che aiuta i redditi più bassi. Vale la pena ricordare che al netto delle misure sull'energia questa è la misura più costosa di tutta la legge di bilancio, costa oltre 4 miliardi di euro. Per cui l'altra grande priorità l'abbiamo data al taglio del costo del lavoro per aumentare i soldi in busta paga di coloro che hanno diciamo redditi più bassi. C'è un avvio di quello che abbiamo diciamo definito il più assumi meno paghi cioè un incentivo all'assunzione ovvero per chi assume donne o giovani fino a 36 anni o per settori di reddito di cittadinanza noi azzeriamo la contribuzione. Questa misura vale per i nuovi contratti cioè per la maggiore occupazione significa significa che non puoi usarla licenzio qualcuno e prendo qualcun altro per poter accedere alla contribuzione vale o per la maggiore occupazione rispetto ai massimi livelli o per la trasformazione da contratti a tempo determinato a contratti a tempo indeterminato quindi vale o per assumere di più o per stabilizzare lavoratori a tempo determinato. sempre in tema lavoro introduciamo i buoni lavoro nei settori dell'agricoltura del comparto oreca e della cura alla persona in particolare per quello che riguarda i lavori domestici fino a 10.000 euro è ovviamente una misura utile a regolarizzare il lavoro stagionale il lavoro occasionale è una misura ovviamente che si deve accompagnare a controlli molto rigidi per evitare storture ne abbiamo lungamente parlato con il ministro Calderone rinviamo di un altro anno l'entrata in vigore di plastic taxes sugar tax che quindi non entreranno in vigore nel 2023 l'altro grande capitolo sul quale ci siamo concentrati riguarda la famiglia i provvedimenti per la famiglia e per la natalità in questa legge di bilancio occupano quasi un miliardo e mezzo di euro una scelta che io credo non abbia molti precedenti diciamo nei governi che abbiamo visto negli ultimi anni quali sono le misure assegno unico l'assegno unico viene aumentato del 50% a tutti per il primo anno di vita del bambino viene aumentato del 50% per tre anni per le famiglie che hanno tre figli o più quindi per le famiglie numerose l'aumento del 50% dura tre anni l'iva su tutti i prodotti per la prima infanzia viene portata al 5% viene portata al 5% anche l'iva per quello che riguarda i dispositivi genici femminili non compostabili ci sono le misure vengono confermate le misure per l'agevolazione sull'acquisto della prima casa per le giovani coppie che sono due una è relativa all'imposta di registro e l'altra è la garanzia che lo Stato copre fino all'80% sui mutui per la prima casa per le giovani coppie e c'è una misura che secondo me è molto importante sul congetto parentale voi sapete che al netto del congetto obbligatorio il congetto facoltativo che si può utilizzare fino ai 6 anni di vita del bambino viene retribuito del 30% io ho sempre pensato che diciamo molte madri non se lo potessero permettere e che anche diciamo dopo i primi mesi di vita del bambino ti ritrovi ad avere dei problemi e magari non puoi prenderti il congetto perché col 30% di retribuzione in questo contesto non ce la fai allora noi abbiamo aggiunto un mese di congetto facoltativo quindi non obbligatorio ma retribuito all'80% è utilizzabile fino al sesto anno di vita del bambino cioè una specie di piccolo salvadanaio del tempo che le madri possono tenere da parte e utilizzare nel caso in cui dovessero avere situazioni di difficoltà senza per questo doversi ritrovare in condizioni economiche diciamo particolarmente difficili sempre in tema di assegno unico un'altra misura che può sembrare scontata ma non lo è riguarda la maggiorazione per i figli disabili incredibilmente nell'assegno unico la maggiorazione per i figli disabili era considerata diciamo transitori non era strutturale cioè per ora la prevediamo e poi vediamo io credo che sia proprio una condizione fondamentale che ovviamente i bambini disabili abbiano più degli altri e quindi abbiamo reso questa misura strutturale tutto questo vale quasi un miliardo e mezzo di euro abbiamo affrontato la materia pensionistica e lo abbiamo fatto con serietà viene prorogata l'ape sociale viene prorogata opzione donna seppur con alcuni correttivi secondo me per rendere la misura diciamo più equilibrata c'è il tema dello scalone pensionistico senza un intervento dal primo gennaio del prossimo anno noi ci saremmo ritrovati in una situazione per la quale sarebbe scattata per tutti la pensione a 67 anni noi interveniamo prorogando l'attuale regime con dei correttivi cioè la possibilità di andare in pensione a 62 anni con 41 anni di contributi ma anche qui con dei paletti di buonsenso il più importante dei quali è che per chi decide diciamo di entrare in questa finestra fino a maturazione dei requisiti non potrà prendere una pensione superiore a 5 volte la minima cioè dai 62 ai 67 anni la pensione che si prende se si decide di andare in pensione prima non può essere più alta di un tot chiaramente quando poi maturano i contributi quella dipende dai contributi ovviamente dal sistema nel quale si sta e si torna a prendere la pensione che diciamo che era stata maturata abbiamo anche deciso di aiutare le pensioni minime ora noi rivaluteremo le pensioni rivaluteremo tutte le pensioni secondo l'indicizzazione ma lo faremo con una percentuale diversa in base a quanto è alta la pensione cioè abbiamo deciso che le pensioni minime vengono rivalutate non del 100% ma del 120% quindi l'aumento maggiore in rapporto all'inflazione lo avranno le pensioni più basse tutte le pensioni fino a 2000 euro e oltre vengono rivalutate del 100% quindi completamente e poi man mano che la pensione aumenta diciamo l'aumento diminuisce fino alle pensioni per capirci che sono pari a oltre 10 volte la minima quindi pensioni superiori ai 5000 euro per le quali noi l'indicizzazione la fermiamo al 35% vengono comunque aumentate ma di una percentuale inferiore di quanto vengono invece aumentate le pensioni più basse dobbiamo ovviamente considerare che noi parliamo prevalentemente di pensioni calcolate con sistema retributivo e quindi con pensioni il cui sistema diciamo è molto diverso da quello che si vive oggi cioè sono pensioni calcolate non sulla base dei contributi versati ma sulla base della media delle ultime retribuzioni e quindi in alcuni casi voi sapete io ho fatto una lunga battaglia su questo ci sono pensioni in Italia che insomma hanno insomma un importo oggettivamente molto molto significativo ecco abbiamo pensato che non valesse la pena di rivalutare al 100% una pensione da 10.000 euro al mese e che invece valesse la pena rivalutare del 120% una pensione da 524 euro al mese e la scelta che abbiamo fatto è la scelta sulla quale della quale ci assumiamo la responsabilità l'attenzione alle fasce più debole protagonista anche dello stanziamento di 500 milioni di euro contro il caro carrello questo è stato oggetto come ho visto che anche sulla stampa si è molto dibattuto noi avevamo ragionato della possibilità di azzerare l'iva su pane pasta su pane e latte dopodiché non abbiamo fatto questa scelta perché ovviamente non potendo distinguere diciamo il reddito di chi acquistava quei beni la misura si sarebbe spalmata anche su chi non aveva bisogno di una misura del genere e quindi le stesse risorse avrebbero impattato meno su chi aveva bisogno invece di un aiuto concreto e quindi che cosa abbiamo in mente di fare noi abbiamo in mente di selezionare con decreto alcuni alimenti e utilizzare questi 500 milioni per abbassare il prezzo su quei beni per gli incapienti utilizzando la rete dei comuni ma abbiamo in mente su questo anche di fare un appello ai produttori e ai distributori per aiutarci in quest'opera cioè noi diremo in base a chi aderirà dandoci una mano calmierando a sua volta il prezzo diremo quali sono quei produttori e quei distributori che hanno aderito a questa nostra iniziativa e dove si potranno spendere queste risorse e racconteremo ovviamente anche all'Italia quali sono state le persone che in un momento di difficoltà mentre il governo diciamo cercava di fare la sua parte hanno dato una mano per aiutare le persone a calmierare i prezzi per le persone maggiormente in difficoltà su alcuni beni fondamentali in questa manovra manteniamo gli impegni anche in tema di reddito di cittadinanza dunque noi abbiamo sempre detto che il reddito di cittadinanza era una misura sbagliata perché uno stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo è esattamente da questa filosofia che muoviamo avremmo ovviamente avuto bisogno di più tempo per fare una riforma complessiva che faremo di questa materia in un mese non eravamo nella condizione di farlo ma intanto fedeli ai nostri principi noi stabiliamo che si continua a tutelare chi non può lavorare disabili anziani famiglie prive di reddito con minori a carico aggiungiamo le donne in gravidanza ma per gli altri per chi è in condizione di lavorare il reddito di cittadinanza viene abolito alla fine di quest'anno alla fine del 2023 chiedo scusa il prossimo anno e nel 2023 non potrà essere percepito per più di otto mesi complessivi e in ogni caso decade al rifiuto della prima offerta di lavoro perché abbiamo fatto questa scelta abbiamo fatto questa scelta perché ovviamente non avendo ancora messo in campo tutti gli strumenti con i quali vogliamo trasformare l'assistenza in lavoro ci siamo dati un periodo transitorio per accompagnare le nostre scelte avete visto che una scelta c'è già perché diciamo l'azzeramento dei contributi per chi assume per settori di reddito di cittadinanza è una misura in questo senso ma avevamo raccontato abbiamo raccontato ad esempio come il fondo sociale europeo possa intervenire in maniera molto seria per formare queste persone e dare loro un posto di lavoro quindi noi abbiamo scelto diciamo di tenere un periodo transitorio per accompagnare quella che sarà la fine del reddito di cittadinanza per chi è in condizioni di lavorare perché io credo e continuo a credere e nessuno mi toglie dalla testa questo obiettivo e ovviamente si stracceranno le vesti vedo forze politiche che già diciamo chiamano la piazza bene tutto vorrei sapere se chi ha pensato il reddito di cittadinanza quando lo ha pensato lo ha immaginato come uno strumento con il quale lo Stato dovesse occuparsi delle persone dai 18 ai 60 anni perché segnalo sommessamente che c'è gente che lo prende da tre anni senza soluzione di continuità che non sia un mese quindi evidentemente non ha funzionato come doveva funzionare o abbiamo stabilito il principio che per alcuni italiani lo Stato se ne occupa all'infinito io credo che lo Stato se ne debba occupare trovando a queste persone aiutando queste persone ad avere un posto di lavoro e a poter anche migliorare la propria condizione invece di mantenersi in quella condizione di difficoltà tra l'altro scusate ho dimenticato un elemento che secondo me è fondamentale tra diciamo gli elementi che introduciamo c'è anche l'obbligo di presenza del territorio nazionale per chi percepisce il reddito perché vi segnalo che insomma sono tantissimi i casi di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza in Italia ma non sono in Italia quindi credo che anche questo debba essere verificati da segnalare ancora e vado veloce la tregua fiscale su questo ovviamente Maurizio Leo sarà molto molto più chiaro di me lo spirito dal quale muoviamo è quello di un rapporto diverso tra Stato e contribuente un rapporto nel quale diciamo lo Stato non è più diciamo aggressivo e punitivo ma giusto e diciamo comprensivo nei confronti di chi è in difficoltà non è previsto alcun condono nella nostra tregua fiscale ci sono solo operazioni di buon senso che sono vantaggiose per lo Stato tra queste vengono annullate le diciamo cartelle inferiori a mille euro e vecchie di oltre sette anni cioè antecedenti al 2015 per capirci quelle per le quali diciamo la riscossione più costosa della cancellazione per lo Stato ma per tutti gli altri si dovrà pagare il dovuto con una maggiorazione unica del 3% e con una possibilità di rateizzazione quindi l'importo dovuto si paga si paga per tutti ma si paga diciamo potendo rateizzare e togliendo tutti diciamo gli oneri di riscossione insomma le maggiorazioni che conoscevamo sostituite da un unico incremento del 3% questo semplificando Maurizio Leo lo spiega più nel si ritieni lo spiegherà più nel dettaglio viene confermato l'aumento del tetto all'uso del contante a 5.000 euro che diciamo per estraneità di materia è uscito dal precedente decreto ma in questo caso la materia è la sua tetto a 5.000 euro è al di sotto della media diciamo europea e quindi anche questa misura viene inserita qui viene introdotta una norma di contrasto alla concorrenza sleale degli esercizi si apri e chiudi materia della quale anche ci occupiamo da tempo cioè quegli esercizi che aprono non versano un euro alle casse dello Stato chiudono prima che lo Stato cominci a fare i controlli spariscono ricominciano da capo abbiamo introdotto diciamo una misura in forza della quale quando l'agenzia delle entrate ha diciamo avvisaglie da questo punto di vista può convocare questa persona e se non ha diciamo rassicurazioni può cancellare la partita IVA e a quel punto la partita IVA può essere riaperta solamente versando una fideiussione a garanzia del pagamento delle tasse vuol dire in anticipo mi versi le tasse che mi dovrai e io poi ovviamente te le scalo anche questa è una misura secondo me di buonsenso perché credo che commercianti e imprenditori debbano essere difesi dall'abusivismo e dalla concorrenza sleale ci sono 450 milioni per il trasporto pubblico locale 400 milioni per l'alluvione nelle marche e il terremoto del centro Italia 200 miliardi per la sanità 800 milioni per i comuni e chiudo complessivamente una manovra come dicevo coerente con la nostra visione non ci sono bonus non ci sono micro questioni non ci sono diciamo particolari diciamo misure che riguardano questo o quel ministro in base ai piccoli interessi ci sono scelte politiche dai quali ci assumiamo la piena responsabilità abbiamo preso impegni importanti in campagna elettorale e con questa manovra il taglio del cuneo fiscale il tema del reddito di cittadinanza più assumi meno paghi meno paghi aumento delle pensioni minime su tutte queste misure noi stiamo iniziando un lavoro quelli che abbiamo preso erano ovviamente impegni di legislatura abbiamo sempre detto nell'orizzonte della legislatura ma io considero molto importante che con la prima manovra in un mese noi si sia aperto il barco su tutte le misure che dovevano caratterizzare la visione economica e le scelte politiche di questo governo e di questo vado molto fiera devo ringraziare per questo non solo ovviamente il lavoro del ministro Giorgetti del viceministro Maurizio Leu ma la responsabilità di tutto il consiglio dei ministri perché il clima che si è respirato per chi come noi diciamo qualche altro consiglio dei ministri durante l'approvazione della manovra l'ha vissuto il clima che si respirava ieri sera in consiglio dei ministri di fronte a una manovra che concede diciamo poco alle piccole questioni ma che concede molto alla visione di fronte a una manovra che fa questa scelta io non ho visto egoismi ho visto la voglia di lavorare di andare in una direzione precisa di difendere le scelte che si fanno e credo che di questo vada ringraziato tutto il consiglio dei ministri a partire ovviamente dai leader dei partiti della maggioranza chiaramente nel leader parlamentare crediamo e speriamo che la misura possa essere migliorata con le proposte che arriveranno dai componenti della maggioranza ma anche per carità da quelli dell'opposizione e speriamo che l'atteggiamento sia un atteggiamento serio e responsabile come quello che abbiamo dimostrato noi prima di chiudere io voglio ancora una volta l'ho già fatto stamattina ma voglio farlo anche con voi ricordare Roberto Maroni con il quale io sono stata collega in un altro governo l'ho considerato una delle persone più capaci che io abbia incontrato nella mia vita era un amico era una persona che a questa nazione ha dato tanto a scompare oggi era come voi sapete malato e quindi vogliamo ricordare lui e ovviamente esprimere la solidarietà alla sua famiglia mi fermo qui do la parola a Matteo Matteo grazie e parto dal ricordo di Roberto i funerali saranno venerdì mattina a Varese quindi ovviamente per me e per tutta la Lega cambia l'agenda e la scaletta delle priorità e quindi tutta la comunità leghista sarà fisicamente o idealmente venerdì mattina con parenti e amici a Varese ovviamente abbiamo preparato una giornata diversa che era di soddisfazione per la consapevolezza in un momento difficile e di difficoltà economica per milioni di italiani però di riuscire a fare una manovra non miracolosa o miracolistica che però porta soldi in più in milioni di case degli italiani ovviamente con la brutta notizia di questa mattina e con Umberto Bossi ancora ricoverato a Varese diciamo che la gioia lascia spazio ad altro tipo di riflessioni Giorgia ha già detto tanto c'è anche aggiungo è rinnovato il bonus Maroni in manovra nel senso che oltre ad aver fermato la legge Fornero che era un nostro impegno non politico sociale morale archiviandola direttamente però c'è anche la possibilità per chi raggiungesse i requisiti dei 41 anni di contributi ma volesse continuare a lavorare questo nell'ottica del merito del premio della capabilità della buona volontà chi andrà avanti a lavorare pur avendo raggiunto i requisiti pensionistici avrà un premio del 10% sullo stipendio quindi tradotto se tu nel 2023 maturi i requisiti di 41 ma ti senti bene vuoi continuare a contribuire alla tua comunità e non hai problemi a casa o di salute puoi andare avanti a lavorare con un incremento del 10% dello stipendio che è tanta roba non ripeto quello che che si è già detto quindi dall'incremento della front tax come da impegno dall'avvio della pace fiscale ovviamente questo è un primo passo dal mio punto di vista ne parlavo con Giancarlo e con Maurizio deve essere l'inizio di un percorso perché ci sono milioni di italiani che hanno cartelle esattoriali non solo di 1.000 2.000 o 3.000 euro ma di 50 60 70 80.000 euro che durante il covid la crisi economica la crisi energetica non possono che essersi aggravate quindi bisogna dare una risposta di equilibrio e buon senso anche a questi a questi lavoratori l'aumento delle pensioni minime era un impegno e c'è con un aumento minore delle maxi pensioni ma mi sembra assolutamente ragionevole per quello che riguarda il mio ministero ci sono alcuni impegni mantenuti alcuni dei quali a costo zero penso alla riattivazione della società stretto di Messina mi fa piacere che da Messina questa mattina siano arrivati attestati di gioia da entrambe le sponde di Calabria e Sicilia per l'avvio il riavvio di un percorso che comincia 54 anni fa e che alla collettività italiana è già costata centinaia di milioni di euro senza aver posato una pietra di opera pubblica questo è il governo e la legislatura che ha l'ambizione di posare la prima pietra e avviare questi benedetti lavori che non interessano solo Messina e Reggio Calabria ma interessano l'intera Europa tanto che il 5 dicembre a Bruxelles a riunione dei ministri dei trasporti chiederò che questa infrastruttura strategica questo corridoio continentale strategico abbia un co-finanziamento europeo a proposito di grandi opere in questo momento è in funzione del MOSE a Venezia lo dico a chi è a casa i colleghi giornalisti che sta fronteggiando la marea più alta da 50 anni a questa parte si raggiungono i due metri in mare a Malamocco se non ci fossero le barriere del MOSE ci sarebbe Venezia sommersa in maniera catastrofica quindi un'opera di ingegneria straordinaria che ho avuto l'onore di visitare sabato che sta salvando un patrimonio dell'umanità perché senza quelle barriere che sono state erette nonostante i signor no i comitati del no i benpensanti del non serve del costa troppo ecco la sola giornata di oggi giustifica il lavoro l'impegno e la spesa che stanno dietro a quelle barriere che stanno salvando in questo preciso istante ore 10.47 di martedì 22 novembre senza quell'opera di ingegneria incredibile Venezia sarebbe sott'acqua perché una marea fra il metro e ottanta e i due metri in mare è qualcosa che non si vedeva vi ricorderete la grande marea di tre anni fa ecco è peggio è peggio quindi pensare in grande valorizzare gli ingegneri e il genio italiano oltre che sperare che vengano in Italia a investire geni stranieri come Elon Musk penso che sia fondamentale non la faccio lunga anche perché è l'inizio di un percorso che con Giorgio e Giancarlo ovviamente ci porterà a limare a seguire a valutare dal mio punto di vista ci sono tante grandi opere ferme probabilmente il 4 sarò a Genova dossier Gronda finalmente anche lì da mettere a terra dossier Terzo Valico il tunnel del Brennero la statale 106 della Calabria che trova finanziamento milionario anzi miliardario nell'arco degli anni in questa manovra di di bilancio a costo zero c'è anche a proposito di stoppare il caro vita l'aumento previsto dal codice della strada delle multe stradali a far data dal primo gennaio per un rinnovo automatico degli aumenti biennale previsto dal codice della strada che in un momento delicato come questo sarebbe una stangata per molti insostenibile politicamente parlando è un ottimo inizio siamo qua da 30 giorni sembra che sia passati mesi se non anni però penso che gli italiani stiano cogliendo il cambio di marcia il cambio di aria il cambio di segno da tanti punti di vista questa manovra che punta su chi ha bisogno sulle famiglie sui giovani sui ragazzi ne è un esempio però l'impegno sul dossier sicurezza immigrazione ne è un altro esempio sull'autonomia si sta correndo sulle infrastrutture si sta sbloccando devo dire che a ragione Giorgia ieri c'era un bellissimo clima in consiglio dei ministri poi è la manovra che in un sol colpo risolve i problemi di tutta Italia no però è la prima di cinque manovre di bilancio abbiamo un percorso quinquennale diciamo che è buona la prima tutto è perfettibile quindi il percorso parlamentare che vedrà una maggioranza compatta solida e granitica al di là del malaugurio di qualcuno che però rimarrà a bocca asciutta ottima partenza quindi questi 30 giorni vissuti H24 al lavoro sono 30 giorni ben impiegati e penso che gli italiani stiano apprezzando lo sforzo in un momento così difficile da parte di tutti quindi grazie a Giorgia e grazie a chiunque sia intorno a questo tavolo anche a chiunque non ci sia perché Antonio è in missione in Serbia e quindi è merito di tutti quello che stiamo riuscendo ad ottenere grazie Matteo allora a questo punto darei la parola al ministro Giorgetti grazie pochi giorni fa perché tutto si sta svolgendo rapidamente in occasione della illustrazione della Nadef avevamo detto che avremmo agito con una linea prudente responsabile e sostenibile e credo che l'abbiamo dimostrato anzi aggiungo anche due ulteriori diciamo così qualificazioni in modo coraggioso e giusto coraggioso e giusto perché quando si ha il coraggio di prendere anche delle scelte impopolari per ragione di equità e giustizia come abbiamo fatto con delle scelte politiche è qualcosa di importante che va sottolineato e lo facciamo e la presentiamo in modo diciamo così orgoglioso al popolo italiano agli italiani e anche a tutti i risparmiatori che continuano a avere fiducia nell'Italia e sottoscrivono il debito pubblico italiano e ricordo il grande successo settimana scorsa dell'emissione di BTP Italia molto rapidamente perché credo che tanto è stato detto e nel particolare entreranno i colleghi ma noi abbiamo diciamo così in questa manovra anche rifinanziato le cose giuste che ha fatto il Presidente del Governo e che non erano più finanziate come sono state ricordate dal taglio al cuneo contributivo agli assegno per i disabili quindi una parte di queste scelte erano scelte in qualche modo obbligate e in qualche modo abbiamo soddisfatto questo tipo di aspettativa secondo abbiamo detto che avremmo concentrato l'intero scostamento che abbiamo presentato l'Unione Europea sull'energia e abbiamo fatto esattamente quello che abbiamo promesso una settimana fa sull'energia vanno 21 miliardi esattamente quasi millimetricamente identico allo scostamento di bilancio l'abbiamo fatto però in modo diciamo così indirizzato canalizzato esattamente alle famiglie più bisognose e alle imprese che devono superare una situazione di crisi e di recessione internazionale che in qualche modo è annunciata e per quanto riguarda tutti gli altri interventi abbiamo fatto come ha ricordato il Presidente Maroni una scelta politica abbiamo tagliato aumentato da qualche parte e abbiamo destinato a quelle che sono le scelte del manifesto politico di questa maggioranza per semplificare se guardiamo il fisco abbiamo ovviamente fatto una maggiore tassazione sui profitti energetici e l'abbiamo destinato all'incremento del taglio contributivo piuttosto che a interventi finalizzati alla detassazione di salari di produttività e alla diciamo tassa piazza e per quanto riguarda la spesa sociale abbiamo forse tagliato chiaramente sulla spesa previdenziale ma abbiamo investito sulla spesa previdente e cioè sui figli su coloro che domani potranno mantenere tutti i pensionati e la spesa pensionistica perché la più grande riforma delle pensioni è esattamente quella che premia la natalità altrimenti non c'è per nessuno e quindi proprio concludendo credo che abbiamo esattamente mantenuto quello che abbiamo detto politicamente in una linea di prudenza e responsabilità in modo corredoso dopo di che non arrivo a dire che questa sia una manovra saggia perché qualcuno potrebbe dire che come Battisti che insomma è la prudenza più stagnanza io sapete che continuo a ripetere il termine prudente però la prudenza talvolta in qualche modo impiega coraggio e coraggio politico intanto invocavano sforamente di qua sfondamente di là si aspettavano che facessimo diciamo così un po' di follie mi dispiace non aver assecondato questo tipo di aspettative e davvero un pensiero a Bobo Maroni perché entra questa norma sua qualche giornalista quando è uscita l'attribuita a me io gli ho scritto ho detto no questa è una cosa tua me di Maroni purtroppo non mi aveva risposto il motivo abbiamo capito oggi grazie grazie Giancarlo allora Maurizio possiamo dare qualche specifica in più sulle questioni fiscali allora grazie come ha detto il presidente noi abbiamo mirato gli interventi fiscali in un'ottica di revisione strutturale che verrà che si svilupperà poi nel corso del quinquennio del sistema impositivo che noi abbiamo un sistema impositivo mi riferisco in particolare all'IRPEF che è un po' a macchia di leopardo ci dicono che introduciamo flat tax introduciamo tasse piatte ma il sistema dell'IRPEF è un sistema con tantissime misure che non rispettano la progressività mi riferisco in particolare alle misure che riguardano coloro i quali hanno importanti redditi di capitale che hanno importanti redditi da partecipazione e tutti questi soggetti pagano il 26% mi riferisco a coloro i quali hanno ingenti patrimoni immobiliari che danno in locazione e pagano il 21% quindi le misure che noi abbiamo introdotto in questa legge di bilancio sono delle misure che danno una prospettiva la prospettiva qual è? quella di ridurre gradualmente le tasse e questo lo faremo nel corso di tutta la legislatura ma ci siamo concentrati in aggiunta a quello che ha ricordato il Presidente e il Ministro Giorgetti ci siamo soffermati su due aspetti in particolare sulla cosiddetta tregua fiscale e sull'alleggerimento del carico fiscale per il mondo non solo del lavoro autonomo e delle piccole imprese ma anche dei lavoratori dipendenti che significa tregua fiscale molto sbrigativamente si è parlato di tregua fiscale come le sole cartelle invece noi abbiamo coperto tutto lo spazio del rapporto fiscale che parte dalle dichiarazioni per arrivare poi alle cartelle che cosa è successo nel corso del tempo soprattutto negli ultimi tempi i contribuenti non hanno avuto le risorse finanziarie per onorare i debiti tributari e non solo abbiamo un carico sanzionatorio che è fuori linea rispetto agli altri partner europeo e ai principali paesi internazionali pensate che il nostro sistema sanzionatorio si attesta parlo di sanzioni amministrative dal 120 al 220 per cento dell'imposta negli altri paesi invece ci si ferma al 60 per cento quindi questo è il primo aspetto su cui siamo intervenuti abbiamo detto i contribuenti per effetto del periodo covid per effetto delle scarse risorse per effetto di pagare le imposte ordinarie non possono in un'unica soluzione pagare tutti questi ammontari e poi abbiamo messo in evidenza il fatto che esistono sanzioni che sono una sorta di esproprio per il contribuente quindi come abbiamo costruito questa trega fiscale abbiamo detto il contribuente che ha presentato una dichiarazione nelle annualità sino al 2021 2022 ancora si deve presentare la dichiarazione e magari è stato più diligente quello che ha esposto in dichiarazione le imposte da pagare però purtroppo non aveva le risorse finanziarie questo contribuente deve pagare tutte le imposte quindi chiariamolo così per fugare ogni tipo di dubbio questo non è assolutamente un condono e ne vengono fatte sanatorie di tipo penale dice deve pagare tutte le imposte si applica una sanzione più bassa una sanzione del 3% rispetto a sanzioni molto più elevate e si dà uno spettro temporale di pagamento quinquennale questo è il primo intervento che facciamo quindi veniamo incontro a coloro i quali hanno presentato la dichiarazione soprattutto nel periodo covid non avevano le risorse si mettono a posto quindi pagano tutto quanto pagano una sanzione ridotta del 3% in uno spettro temporale più ampio poi ci siamo dati carico anche di coloro i quali hanno presentato la dichiarazione ma per una serie di motivi non hanno potuto mettere in evidenza quelli che erano tutti i redditi che erano dovuti allora in quel caso diciamo bene devi metterti a posto quindi devi pagare tutta l'imposta devi pagare con delle sanzioni del 5% ma in uno spettro temporale di due anni oggi già abbiamo un istituto di questo tipo si chiama ravvedimento operoso ma bisogna pagare in un unico anno diamo la possibilità a questi soggetti di effettuare il pagamento in uno spazio temporale più ampio poi abbiamo tutti i casi in cui il soggetto il contribuente è stato raggiunto da un avviso di accertamento da un processo verbale della guardia di finanza e qui diciamo anche qui la regola è sempre quella del pagare tutta l'imposta di applicare delle sanzioni ridotte del 5% e di avere uno spazio temporale di pagamento di 5 anni beh in questi casi hai ricevuto un avviso di accertamento o diciamo fai la cosiddetta acquiescenza accetti tutto quello che ti ha detto il fisco e c'è una riduzione delle sanzioni oppure se non accetti quello che ha detto il fisco ti puoi mettere questa è la novità il cambio di lotta che vogliamo fare ti metti seduto a tavolino con l'ufficio con l'amministrazione finanziaria esponi le tue ragioni ecco la compliance quello che dovrà essere il tratto distintivo del rapporto col fisco ti metti seduto col fisco esponi le tue ragioni e poi sulla base di un contraddittorio si può arrivare anche a un'imposta più bassa pagherai le sanzioni del 5% avrai una dilazione lunga ma si realizza quello che è l'avvicinamento la compliance quindi un rapporto più sereno tra contribuenti e fisco se ci sono già dei contenziosi in piedi perché è possibile che il contribuente ha avviato un iter contenzioso anche in quel caso ci sono due possibilità non sono questi istituti nuovi sono istituti che già esistono nel nostro ordinamento la cosiddetta conciliazione giudiziale ci si mette a tavolino con l'ufficio e anche qui si definisce l'esatta pretesa tributaria applicando le sanzioni al 5% con una realizzazione su 5 anni o in alternativa abbiamo dato la possibilità di applicare dei meccanismi che già esistono che già sono stati adottati in passato nel governo Conte si è adottato una misura che teneva conto appunto dell'esito del contenzioso e quindi sulla base di quella che era la pronuncia dei giudici si pagava una certa percentuale infine l'ultimo tassello di questo che noi chiamiamo tregua fiscale sono le cartelle che cosa succede le cartelle di ammontare ridotto sino a un mille euro e sino a un certo anno sino al 2015 sono cartelle che obiettivamente non sono più esigibili un altro aspetto che dovrà formare oggetto di attenzione da parte nostra è togliere di mezzo questo stock imponente di cartelle che gestisce agenzie entrate riscossioni pensate che ci sono circa 1132 miliardi 1132 miliardi di carichi affidati all'agente della riscossione la Corte dei Conti ha detto che si possono riscuotere solo il 6-7% di queste cartelle quindi che cosa dobbiamo fare dobbiamo smaltire l'inesigibile quello che pensate a soggetti deceduti a soggetti falliti e qui non possiamo tenere ancora questo stock enorme di cartelle che obiettivamente non sono riscuotibili da parte dell'agenzia di entrate quindi a questo proposito che vogliamo fare quindi 1000 euro le togliamo via ma attenzione 1000 euro le togliamo via perché sono pure passati 7 anni se non sono state riscosse queste somme è difficile che lo potranno essere diciamo in futuro invece per ammontare i superiori a 1000 euro si dovrà pagare tutta l'imposta si dovrà pagare tutta l'imposta senza sanzioni senza interessi e una rateizzazione su 5 anni come vedete qui non abbiamo fatto nessun tipo di sanatoria nessun tipo di agevolazioni di regali ai contribuenti facciamo pagare tenendo conto di questi due aspetti difficoltà di risorse finanziarie e carico sanzionatorio elevatissimo brevemente sull'altro aspetto quello della flat tax ecco come dicevo quando si parla di flat tax le contestazioni che vengono mosse dice voi aiutate i ricchi ho dimostrato che di solito il ricco non ha che ha redditi da lavoro redditi di impresa minore via dicendo il ricco ha già consistenze finanziarie su cui si applica una percentuale che non è una percentuale progressiva non c'è una liquota progressiva quindi noi che cosa abbiamo fatto siamo intervenuti su tre versanti la flat tax ordinaria quindi elevando il tetto da 65.000 a 85.000 euro e l'abbiamo fatto nel rispetto delle regole comunitarie perché la direttiva comunitaria ci dà agio di poter elevare il tetto da 65.000 a 85.000 euro e spingersi sino a 100.000 euro e guardate che quello che abbiamo fatto è anche una misura di contrasto alla all'illusione e di contrasto anche a pratiche non molto ortodosse perché con la precedente normativa che succedeva che il soggetto che aveva delle si creava i presupposti per la flat tax quindi che nell'anno precedente aveva un ammontare di ricavi inferiore a 65.000 euro nell'anno successivo poi poteva dichiarare anche un milione di euro e pagare il 15% oggi noi diciamo questo non è più possibile se superi una certa soglia già da quell'anno tu mi devi pagare tutta la imposta e poi diciamo che se si arriva se si supera la soglia dell'85 a 100.000 euro immediatamente dall'anno successivo sei assoggettato a tassazione ordinaria l'altro l'altro aspetto che va segnalato molti dicono ma con questo meccanismo si agevolano i contribuenti perché gli si fa pagare un'imposta molto più bassa ma tenete presente che il meccanismo del regime forfettario è un meccanismo che prende a base i ricavi a cui si applica un coefficiente di redditività che spesso non esprime tutti i costi che l'impresa ha sostenuto per esempio se ha beni strumentali se ha macchinari questi costi sarebbero deducibili nell'ipotesi ordinaria e qua non li si fa a dedurre li si fa a dedurre attraverso una percentuale perché il contribuente lo fa? per una logica di semplificazione si vuole semplificare la vita quindi sceglie il meccanismo forfettario in alternativa a questa abbiamo la cosiddetta flat tax incrementale che è uno degli aspetti più importanti che abbiamo messo in evidenza nel programma di centro-destra flat tax incrementale che ha una duplice finalità contrastare l'evasione fiscale che se io so che pago di meno sul reddito incrementale sono ben disposto a risolvere sia a mettermi a posto col fisco e ha una funzione di stimolo alla crescita economica e in aggiunta a questo abbiamo l'ha introdotto il 5% quindi sul diciamo su un tetto del su un salario di produttività quindi su un reddito di produttività del lavoratore dipendente sino a 3.000 euro applichiamo non il 10% come era la previgente normativa ma un 5% quindi come vedete ci stiamo muovendo su tutto il mondo del lavoro autonomo questo non è che l'inizio perché già nella prossima legge di bilancio è nostra anzi prima della legge di bilancio nel prossimo anno nostra intenzione porre le basi per una legge delega di riforma del sistema fiscale per cambiare effettivamente il rapporto tra fisco e contribuente e per consentire all'Italia di essere in una posizione allineata con gli altri paesi dell'Europa grazie viceministro Leo la parola al ministro Calderone grazie presidente buongiorno vorrei associarmi al cordoglio per la scomparsa di Roberto Maroni e voglio ricordarlo nel suo ruolo di ministro del lavoro e delle politiche sociali durante il suo mandato si sono poste le basi e si sono realizzate delle riforme importanti sul fonte pensionistico ma anche per quel che riguarda la gestione dei rapporti di lavoro e allora per le considerazioni che mi sono assegnate certamente parlare oggi degli interventi che in manovra di bilancio sono stati fatti sul fronte pensionistico credo che debba essere fatto sottolineando alcune delle parole che sono state dette in precedenza prima di tutto la prudenza poi certamente il rigore e anche il fatto che per fare delle riforme di sistema non solo ci vuole il tempo ma ci vuole anche la condivisione il dialogo e il confronto con i soggetti che poi in qualche modo quelle riforme le devono far vivere e devono riempirle anche di contenuti per cui ecco che le misure adottate in materia di pensioni l'ha detto il presidente rinnovo di ape sociale opzione donna con delle modifiche per quel che riguarda la soglia di età e la possibilità invece di riconoscere degli incentivi in uscita in termini di riduzione invece dei criteri di accesso per le lavoratrici che hanno avuto figli oppure che si trovano in condizioni soggettive particolari come quelle per esempio dei lavoratori che beneficiano dell'ape sociale credo che quota 103 debbano essere viste proprio come delle misure di accompagnamento la scelta di renderle misure transitorie per l'anno 2023 deve essere visto proprio nell'ottica di una riforma strutturale che invece nel 2023 deve essere studiata varata e ragionata allora ecco che parlare certamente di interventi in materia di lavoro e di previdenza deve poi farci guardare complessivamente al sistema lavoro e quindi al mondo del lavoro anche guardando a quelle che sono certamente le agevolazioni che devono essere riconosciute alle imprese che assumono e che assumono lavoratori e lavoratrici che si trovano in particolari condizioni il pacchetto agevolazione è un pacchetto importante prima di tutto perché incentiva le assunzioni dei giovani con meno di 36 anni e di donne svantaggiate ma poi c'è anche il tema della decontribuzione che in questo caso è per scelta destinato a andare a incrementare quello che è l'importo netto delle retribuzioni dei lavoratori e il fatto che gli interventi non siano solo ed esclusivamente quelli poi contenuti in manovra è dato anche dal fatto che abbiamo già provveduto a notificare la commissione la prosecuzione degli interventi sulla decontribuzione in sud che anche per il 2023 intendiamo portare avanti so che uno dei temi di cui tanto si è parlato e discusso è il reddito di cittadinanza reddito di cittadinanza che all'interno della manovra di bilancio come intervento cuba una cifra di 734 milioni di euro questo è la dimostrazione di quanto diceva il presidente Meloni prima cioè si è fatto un ragionamento su una misura che necessita di interventi lo si è fatto tenendo conto del fatto che i tempi per la realizzazione della manovra certamente non ci consentivano di poter mettere in campo una riforma complessiva di tutti gli interventi a sostegno della povertà e poi delle azioni che invece dobbiamo mettere a regime per favorire l'inclusione lavorativa allora ecco perché la misura del reddito di cittadinanza a questo punto ha nella sua conformazione attuale ha una validità che è coincidente con l'anno 2023 poi per come è scadrà il 31 dicembre del 2023 e verrà nel corso del 2023 invece disegnato un percorso diverso l'intervento è per massimo otto mensilità per coloro i quali sono in una condizione di occupabilità mentre vengono messi in sicurezza tutti coloro i quali invece hanno delle condizioni di difficoltà ulteriore si è detto i nuclei con minori oppure con disabili o con degli anziani in modo e le donne in gravidanza cioè si è cercato comunque di agire con attenzione nei confronti di queste platee ripeto l'intervento da 734 milioni credo che parli da soli però io voglio sottolineare un aspetto importante c'è il collegamento con la formazione c'è il collegamento con il passaggio dal sussidio all'attivazione attraverso i percorsi di formazione e di riqualificazione che sono inseriti all'interno della norma non come richiamo ma come percorso obbligatorio e poi c'è un intervento sul lavoro stagionale che è compatibile entro la cifra di 3.000 euro con la percezione del reddito questo per consentire anche che le persone possano occuparsi in attività stagionali perché sapete perfettamente che durante quel periodo ci sono dei picchi di attività ci sono delle richieste e talvolta le aziende invece non riescono a trovare personale che possa rispondere alla chiamata un altro richiamo importante è il fatto che i percettori di reddito di cittadinanza siano anche inseriti all'interno di quei progetti utili alla collettività gestiti dai comuni per noi è importante comunque il rapporto e anche il collegamento con le comunità e con il territorio è importante anche sottolineare il fatto che certamente verranno effettuati intensificati i controlli e anche sarà ed è indicata la decadenza dopo il rifiuto di un'offerta congura dalla percezione del reddito io credo in questo di poter dire che si è tenuto conto di tutte quelle che sono le situazioni che necessitano di riflessione però che sia giusto anche separare la platea e quindi mettere in protezione chi è in condizioni di necessità che ha bisogno di un sostegno alla povertà e un intervento su quel aspetto specifico e invece aiutare chi è in condizioni di lavorare anche se necessita di un percorso di formazione e di riqualificazione perché credo che poi l'elemento importante su cui tutti siamo d'accordo è che è il lavoro quello che muove non solo l'economia ma fa crescere una società mi fermo qui Presidente va bene ringrazio anche il Ministro Calderone noi ci fermiamo qui se avete delle domande con il primo blocco Barbara Fiammeri sole 24 ore Paolo Cappellari Anza e Francesco Maesano del Tg1 misure per contenere il caro energia lei lo scorso anno è stata molto critica con il governo Draghi per quanto riguarda il taglio del costo del lavoro il taglio del cuneo fiscale ha detto che il governo per accontentare la sua maggioranza aveva come dire spalmato le risorse disponibili su tante rivoli lei quest'anno nella sua prima manovra conferma quel taglio che allora definì quasi irrilevante di due punti e aumenta di un punto per una platea comunque ridotta le chiedo se non sia in corsa nello stesso errore grazie no non sono in corsa nello stesso errore ah schiato scusa ah sì sì c'è una domanda è a gra Paolo Cappellari Anza e Maesano Tg1 buongiorno presidente lei ha definito questa una manovra di visione ha sottolineato come il taglio ulteriore del cuneo fiscale fino a 20.000 euro rappresenti una voce particolarmente corposa e significativa ecco io volevo chiedere possiamo considerare questo un segnale indicativo anche per i prossimi provvedimenti grazie mi permetto una domanda fuori tema una settimana fa eravamo nel pieno della tensione con la Francia sui migranti volevo sapere come sono i rapporti in questo momento con Parigi e che cosa pensa della proposta della commissione europea in 20 punti sui migranti 20 punti su sui migranti vado? prego allora dottoressa Femmeri no non credo di essere incappata nello stesso errore nel senso quello che io contestai della scelta del governo precedente era che loro avevano 8 miliardi per fare diciamo per anticipare la riforma fiscale e scelsero di metterli sull'IRPEF perché credevo al tempo e credo ora che spalmati così essendo 8 miliardi diciamo in una cifra enorme avrebbero reso meno di quanto quelle stesse risorse non potessero rendere sul taglio alcuno fiscale noi facciamo una scelta diversa perché io ho detto che al netto del tema delle bollette la misura più costosa di questa legge di bilancio è il taglio al cuneo fiscale e quindi siamo rimasti perfettamente coerenti con quello che avevamo con gli impegni che ci eravamo presi avevamo detto ci diamo come obiettivo di legislatura il taglio fino al 5% del cuneo per i redditi fino a 35 mila euro e andiamo verso quella dire anche alla domanda successiva sì assolutamente sì se noi non avessimo avuto oggi il problema delle bollette avremmo fatto un intervento io avrei chiesto non so avremmo fatto un intervento più significativo sul cuneo chiaramente con queste risorse l'altra scelta importante che facciamo ma è sempre stata anch'essa una nostra priorità è quella della famiglia che è l'altra grande scelta diciamo che cuba risorse molto importanti ma anche su questo manteniamo fede a un impegno che abbiamo preso lei ricorderà che noi in tutti questi anni abbiamo sempre detto che al primo punto dei nostri programmi ancora prima del taglio del cuneo fiscale c'era il tema di sostenere la natalità per una ragione che il ministro Giorgetti spiegava bene che voi conoscete meglio di me e cioè che noi continuiamo a guardare alloggi non capendo che non abbiamo un domani se non ci rimettiamo a fare i figli in questa nazione il nostro sistema di welfare il nostro tessuto produttivo niente reggerà ci sono chiaramente in passato se fatta la scelta di preferire di guardare alloggi perché insomma ovviamente magari avrebbe impattato di più sul piano del consenso noi facciamo una scelta diversa e quindi le due scelte fondamentali al netto dell'energia che abbiamo fatto in questa legge e il bilancio sono cuneo fiscale e famiglia cioè esattamente l'impegno che ci eravamo presi sul piano chiaramente del costo poi ci sono una serie di altri provvedimenti che hanno il loro costo ma assolutamente non paragonabile a quello di cui stiamo parlando che riguardano il tema delle tasse piatte dei redditi incrementali eccetera ma a me pare che il segnale sia stato un segnale chiaro dopodiché la platea diciamo di chi in Italia percepisce un reddito di 35 mila euro o di 20 mila euro non è così ristretta in realtà insomma i 20 mila euro però i 20 mila euro è comunque un segnale più significativo ma la platea della quale noi stiamo parlando rimane una platea importante infatti quella è una iniziativa del governo Trecchi che io non ho contestato affatto io contestavo il fatto che non avessero speso gli 8 miliardi di euro su questo elemento ma lì il ministro Giorgetti mi è testimone che una delle prime cose che io ho detto è che va confermata e aumentata la misura del taglio del cuneo per cui lo considero perfettamente coerente con quello che abbiamo sempre detto alla seconda ho già risposto Francia guardi non ho grandi novità nel senso i rapporti oggi c'è credo ieri ci fosse il ministro Nordio l'altro ieri c'era il ministro approfitto diciamo ci si parla ci si continua a parlare a 360 gradi la proposta della commissione sui migranti mi perdonerete non ho avuto il tempo di approfondirla ci sta lavorando il ministro Piantedosi e quindi ne parleremo nelle prossime ore perché noi obiettivamente nelle ultime 48 ore ci siamo forse 72 anche di più ci siamo occupati quasi esclusivamente di questo devo approfittare scusatemi per correggere un dato che vi ho dato che era sbagliato perché mi dicono che avrei detto che ci sono 200 miliardi sulla sanità ok ho chiesto al ministro Giorgetti se me li trovava nell'ultimo quarto d'ora dice che lui non li ha e quindi devo correggere sono 2 miliardi scusatemi ma immagino che l'aveste capito da soli che una manovra di 35 miliardi non poteva cubarne 200 sulla sanità scusate e andiamo avanti Fabrizio Frullani del Tg2 Elisa Santarelli prima pagina e Simone Canettieri del Foglio Presidente buongiorno lei ha detto che è uno dei suoi auspici quello che questa manovra venga migliorata nel cammino parlamentare ecco possiamo sapere dove su quali punti su quali temi c'è questo auspicio cioè dove il Parlamento potrà migliorare e poi se potremmo vedere qualcosa in più sul tema delle fiscalizzazioni nell'ambito delle nuove assunzioni per il comparto lavoro guardi io credo che il Parlamento credo nel lavoro parlamentare come lei sa essendo stata l'opposizione per qualche anno diciamo so che il Parlamento se non c'è un atteggiamento pregiudiziale può produrre cose molto buone per cui io credo che possa intervenire su tutto poi penso che ad esempio sui 500 milioni che noi investiamo per combattere il caro carrello ecco quello è un investimento che noi ancora diciamo dobbiamo perfezionare nella suo funzionamento e su questo elemento se uscissero idee diciamo più efficaci della nostra saremmo assolutamente a totale disposizione ma ripeto non mi permetto di dire al Parlamento su cosa possa e non possa intervenire penso che il Parlamento debba intervenire su tutto posso solo augurarmi che l'approccio sia un approccio diciamo non pregiudiziale ecco che si voglia andare nel merito perché il momento nel quale ci troviamo è questo chiaramente i tempi sono quelli che abbiamo su questo approfitto è perché ovviamente si dice il Parlamento potrebbe non avere il tempo sufficiente necessario o che avrebbe voluto io diciamo più di fare la legge in 30 giorni non potevo fare segnalo che il precedente governo presentò la legge me lo ricordo perché ero per l'appunto all'opposizione in Parlamento il 20 di novembre se non vado errata e stava lì da febbraio non da settembre che si pretendesse da noi che abbiamo giurato un mese fa di portare la legge in bilancio prima credo che questo non si possa fare e abbiamo fatto il nostro meglio proprio per lasciare il massimo del tempo possibile al Parlamento e per ascoltare le proposte che arrivano sia dalla maggioranza che dall'opposizione e dopodiché ovviamente faremo le nostre scelte e le nostre valutazioni c'era un'altra domanda ma ha fatto ah sulla defiscalizzazione e guardi sulla defiscalizzazione l'ho già detto lo cerco di ripeterlo così cerco di essere chiara per chi assume giovani fino a 36 anni donne o percettori di reddito di cittadinanza sono azzerati i contributi ma sono azzerati solamente nel caso in cui o si trasformi un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quindi ai fini della stabilizzazione o per maggiore occupazione rispetto al picco dei tre anni se non vado errata precedente perché perché delle volte accade quando si mettono in campo questi provvedimenti io ho tot dipendenti nel licenzio 1 che mi costa pieno tra virgolette e ne assumo 1 sul quale posso applicare la decontribuzione e il saldo è zero è nullo quindi si può fare sulla maggiore occupazione rispetto al massimo del picco del triennio precedente spero di essere stata chiara Buongiorno presidente una domanda sul reddito di cittadinanza allora la macchina di controllo dello Stato che sinora avrebbe dovuto verificare il flusso di informazioni sembra insomma che abbia fallito viste le numerose inchieste che ci sono state su queste truffe ora il sistema dell'autocertificazione è sicuramente quella parte che ha consentito a molte persone disoneste di percepire il reddito ecco avete in mente un sistema più equilibrato più centrato che vada più in profondità che superi l'autocertificazione anche perché chi tenta di truffare anche successivamente lo farà sapendo di non perdere nulla quindi l'autocertificazione in questo senso non può essere un qualcosa di molto negativo allora guardi di chiaramente cose che non hanno funzionato nella percezione diciamo tra i percettori di reddito cittadinanza ce ne sono molte io le citavo prima anche il fatto che appunto molte di queste persone diverse di queste persone non stanno neanche sul territorio nazionale diciamo di un utilizzo fraudolento di questa misura abbiamo letto sulla quasi totalità dei vostri organi di stampa per cui sicuramente le cose non hanno funzionato nel merito risponderà il ministro Calderone quello che le posso dire è che come dicevo in apertura noi abbiamo intenzione di rimettere complessivamente mano a questa materia cioè se oggi decidiamo di operare come stiamo operando è perché non abbiamo avuto e non potevamo avere fisicamente il tempo su una materia così complessa di fare una riforma complessiva ma io non considero che noi manderemo avanti il reddito di cittadinanza io continuo considero che come ho detto alla fine del prossimo anno il reddito di cittadinanza per chi può lavorare sarà abolito e il reddito di cittadinanza ovvero una misura di protezione per chi non può lavorare secondo me va riformato quindi è tutta la materia che va rivista complessivamente ma con un lavoro serio giusto e che possa occuparsi di chi ha bisogno di essere tutelato e aiutare a diciamo avere un futuro dignitoso a chi può con le sue forze con il suo sacrificio con la sua capacità migliorare condizioni difficili dalle quali proviene Ministro io aggiungo che noi stiamo lavorando per rivedere tutto il sistema dei controlli quello che lei sottolineava cioè il fatto che si utilizzi l'autocertificazione dato dal fatto che i controlli venivano fatti ex post e non ex ante perché la tempistica poi di corresponsione del reddito quella dei 30 giorni non consentiva di poter fare un controllo o perlomeno non ha consentito un controllo puntuale su tutte le posizioni stiamo parlando anche con l'istituto previdenziale con l'Inps e proprio per cercare di mettere a sistema i controlli utilizzando al meglio anche tutte le informazioni e le banche dati che in questo momento abbiamo a disposizione oltre al fatto che ci sarà anche un'attenzione specifica come diceva il Presidente per verificare l'effettiva presenza sul territorio italiano dei percettori di reddito nel caso in cui ovviamente siano anche lavoratori stranieri e quello sarà fatto anche coinvolgendo nuovamente l'Inps Presidente questa manovra diciamo i due terzi della manovra vanno a favore del caro energia per cercare di sostenere le imprese però dureranno fino al prossimo aprile allora volevo chiedere se il governo ha un piano se pensa allo scostamento di bilancio se pensa anche a chiedere diciamo ovviamente un aiuto all'Europa e a proposito di questo se la crisi diplomatica con la Francia visto che ha dovuto intervenire anche il Presidente della Repubblica le ha insegnato magari ad avere un approccio meno propagandistico nei confronti anche degli altri cioè dei paesi e dei partner dell'Italia ecco e a partire anche dai suoi alleati che nelle ore più difficili hanno detto che l'aria era finita e che la musica insomma era cambiata e mi rivolgo a Salvini grazie guardi è una vita che voi volete insegnarmi qualcosa no sì 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 però c'è modo in modo di fare le domande mi hai insegnato no non mi ha insegnato niente perché credo di aver fatto il mio lavoro come sempre difendendo gli interessi di questa nazione e non mi pare differentemente da quello che è stato raccontato per molto tempo da chi mi insegnava come doveva funzionare il mondo che stia crollando qualcosa qui intorno non mi pare che sia accaduto quello che pure era stato raccontato sull'arrivo di un governo di sovranisti isolato a livello internazionale lo spread salirà succederà di tutto no mi pare che ci sia un approccio molto serio ma sì rispettoso dell'interesse nazionale italiano quindi non so che cosa esattamente mi si debba insegnare se è insegnarmi a voglio dire non difendere l'interesse italiano questo non lo imparerò mai mi deve scusare quello che noi abbiamo rivendicato ne abbiamo parlato nella scorsa conferenza stampa quando c'è stato il problema della ocean biking è che l'italia non può essere l'unico porto di sbarco in europa o voi ritenete che sia giusto che l'italia sia l'unico porto di sbarco in europa perché questo non è più una materia che riguarda semplicemente la gestione dei flussi migratori no è proprio un problema che riguarda il ruolo dell'italia all'interno della dimensione europea no se ci sono degli accordi su questo bene ma io non ne sono a conoscenza lei ne è a conoscenza non mi pare che ci fossero accordi che stabilivano che sì ma l'approccio diplomato non c'è stato niente di sbagliato sul piano diplomatico mi perdoni nel senso mi pare che si possa dire anche su questo che i toni del governo italiano sono stati dei toni molto rispettosi di tutti anzi anzi diciamo rispetto ad alcune cose che sono state dette da parte di altri verso l'italia mi pare che il tono del governo italiano sia stato un tono perfettamente istituzionale ciò non toglie che questo è un governo che ha un mandato e intende portare avanti quel mandato e io le garantisco che per questo non arriveranno le piaghe d'Egitto in Italia come non stanno arrivando perché quando si è persone rispettabili si viene rispettati ed è esattamente quello che vorrei fare e l'impronta che vorrei dare a questo governo e a questa nazione con rispetto dei diritti degli altri segnalare che ha dei diritti anche l'Italia basta è quello che stiamo facendo e guardi che non creerà grandi problemi tant'è che si parla di fare delle riunioni a livello di ministri per ora interni piuttosto che esteri eccetera per affrontare il tema dell'immigrazione che è esattamente quello che chiedevamo fino a ieri non è accaduto fino a ieri non è accaduto perché è ovvio che se ovviamente va bene che la questione rimanga non si affronta e non si risolve invece quando si crea un problema poi il problema va risolto quindi credo che magari abbiamo fatto un passo in avanti cioè ripeto io sono assolutamente convinta di tutto quello che ho fatto anche da questo punto di vista per quello che riguarda il tema del futuro che è un tema molto importante sul quale al lavoro sono al lavoro una serie di ministri particolarmente Raffaele Fitto ma lì io penso e continuo a dire che il tema di una misura europea sul tetto al prezzo del gas faccia la differenza perché guardi noi possiamo fare anche lo scostamento di bilancio quello che volete e quello che sarà necessario alla fine si farà però quello che pensavo ieri penso oggi cioè a me di prendere 30 miliardi e darli diciamo prevalentemente alla speculazione non è che mi prende felice lo faccio per mettere in sicurezza il tessuto produttivo e le famiglie di questa nazione ma certo che sono risorse che vorrei spendere per fare altro quindi è un pozzo senza fondo se noi non troviamo una soluzione a livello europeo la commissione è andata avanti ha fatto una proposta che io considero un passo avanti importante chiaramente adesso bisogna andare a vedere quali sono i paletti nel merito stiamo studiando la misura ci sarà il consiglio europeo a metà dicembre e quindi speriamo che diciamo si possa lì trovare una soluzione che ci consenta dopo marzo di avere un altro tipo di soluzione al problema dopodiché come io vi ho detto in altre occasioni quando abbiamo sia nelle interlocuzioni che ho avuto io a Bruxelles sia nelle interlocuzioni che stanno avendo i nostri ministri competenti noi ragioniamo o di non solamente noi con altre nazioni europee o di avere altri strumenti come era per esempio Shure durante la pandemia ma altrimenti di una maggiore flessibilità sui fondi già esistenti faccio l'esempio dei fondi di coesione no l'Italia 2013-2020 non ha utilizzato il 50% dei suoi fondi di coesione sono risorse che già ci sono allora magari si potrebbe ragionare di utilizzare risorse non utilizzate già esistenti per affrontare il caro energia insomma queste sono le interlocuzioni che stiamo avendo e devo dire che stiamo trovando orecchie che hanno voglia di ascoltare insomma con la percezione dell'Italia un po' così insomma guardata a vista che delle volte ne hanno diciamo i nostri osservatori e non è la percezione che c'è fuori da qui e devo segnalarvi procediamo l'ultima domanda che poi il Presidente deve andare a confrattare ho la confrattigianato ce la metto tu Ronny Gasbarra di La Press buongiorno Presidente volevo chiederle riguardo alle dichiarazioni di Conte e Letta che hanno già annunciato che scenderanno in piazza per protestare contro le misure che avete adottato in manovra in particolare sul reddito di cittadinanza e poi vorrei tornare un attimo a una dei bilaterali che ha avuto in Egitto con il Presidente Al-Sisi volevo chiedere sul fronte ai diritti umani qual era stata la risposta sul caso Reggeni di Zacchi grazie guardi sull'opposizione che scende in piazza io non ho nulla da dire credo che facciano il loro lavoro insomma rispetto le scelte dell'opposizione non condivido non condivido non so se Enrico Letta ha detto che vuole scendere in piazza per difendere il reddito di cittadinanza segnalo che se non vado errata nella prima versione del reddito di cittadinanza votarono contro anche loro guardi io posso solo dire che sono sempre stata coerente con la mia impostazione e quindi la penso così sono stata e siamo stati votati perché questo c'era scritto nel nostro programma questo faremo e la sinistra e il Movimento 5 Stelle faranno opposizione capisco ovviamente il punto di vista di Conte sul tema del reddito di cittadinanza sul bonus del 100% si faceva la conferenza stampa la chiedo scusa la campagna elettorale dicendo grazie a noi avete gratuitamente gratuitamente come si dice sistemato le vostre case c'è un buco nelle casse dello Stato di 40 miliardi gratuitamente chi? perché lo Stato non fa niente mai di gratuito sono sempre soldi dei cittadini italiani per cui capisco che per chi ha un'impostazione diversa fare scelte che sono giuste che non sono bonus che non sono diciamo un piccolo capotaggio ma sono scelte di visione possano un piacere dopodiché sicuramente la nostra visione non è quella dei nostri avversari altrimenti saremmo la stessa cosa quindi capisco che non condividano niente da dire rispetto alle loro scelte si figuri se io sono una persona che si fa spaventare dalle manifestazioni di piazza ne ho fatte a milioni nella mia vita anzi mi fanno che credo che siano una parte un pezzo importante della democrazia del confronto democratico quindi benvengano le manifestazioni di piazza sul tema dell'Egitto io ho trovato una mi pare di aver trovato una disponibilità ecco da parte del presidente egiziano che chiaramente stiamo verificando poi nei fatti vedremo come andrà nelle prossime settimane su questo non vorrei diciamo entrare troppo nel merito grazie grazie a voi non è colpa mia che c'è proprio il presidente di confrattigianato che sta aspettando me per fare la relazione allora ci sarebbero gli altri è chiusa dobbiamo tagliare un po' guardi allora fermo restando che diciamo non mi pare che non siamo disponibili no no perché ricordo quando diciamo mi ricordo che in altre situazioni siete stati molto meno assertivi mettiamola così ecco dopodiché mi pare che siamo disponibili lei dice tagliamo l'introduzione scusi scusi adesso facciamo le domande tagliamo l'introduzione ma è una legge di bilancio cioè spero che lei non sospetti che noi presentiamo la legge di bilancio in quattro minuti perché io sono una persona seria e le cose le voglio spiegare ok quindi siamo qui stiamo rispondendo alle domande da un quarto d'ora andiamo avanti che vi devo dire io ho un altro impegno spiegherò alla confrattigianato che altrimenti avreste scritto che non rispondevamo alle domande siete stati così coraggiosi in altre situazioni ma a cosa si riferisce eh no lo so io a cosa mi riferisco andiamo avanti dai andiamo avanti sì 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 andiamo avanti eh avevo un incontro con Xi Jinping lei capisce che devo fare oltretutto non mi pare che foste così vabbè andiamo avanti dai buongiorno volevo fare una domanda al ministro Giorgetti però non sulla manovra su due dei principali dossier finanziari del governo su Tim volevo capire se c'è il via libera del tesoro a che cassa depositi e prestiti formulino un'offerta sulla rete di Tim entro novembre come previsto dall'MOIU sulla rete unica e poi se poteste chiarirci se il governo ha intenzione di andare avanti con la vendita di una quota di maggioranza di Tau Airways e nel caso se avete già avviato negoziati con Lufthansa grazie allora per quanto riguarda Tim è prevista una riunione tra tutti i ministri competenti coordinati dalla presenza del consiglio a ore per quanto riguarda ITA Airways è aperta data room Lufthansa è sempre interessata siamo aperti ovviamente anche a tutti coloro che in qualche modo vogliono partecipare a questa che ribadisco è un'operazione che confermo mira a trovare un partner solido industriale che garantisca un futuro certo per la compagnia aerea bene dobbiamo andare Presidente una domanda dalla stampa estera stampa estera greco poi Presidente buongiorno Andrea Di Singelagist dell'agenzia stampa greca la tv greca alfa lei nel suo discorso alla camera al primo ha detto che l'Italia e la Grecia sono la culla della civiltà europea c'è mi sembra un'unità di intenti sul price cap e sulla questione della migrazione c'è stata una dichiarazione comune con Grecia Cipro e Malta vorrei sapere se intende rafforzare la collaborazione con la Grecia e anche rendere chiaro che la questione dei profughi e dei migranti non può essere usata come guerra ibrida da paesi vicini il Ministro Tajani pochi giorni fa ha detto ovviamente le isole greche fanno parte della giurisdizione del territorio greco se ribadisce questa dichiarazione la ringrazio molto ribadisco la dichiarazione le confermo che ho assoluto interesse a lavorare a rafforzare le relazioni bilaterali con la Grecia con i paesi diciamo del Mediterraneo in generale lei ha visto che stiamo molto proiettando diciamo la presenza italiana sul fronte diciamo sud e quindi ovviamente abbiamo massimo interesse tra l'altro io non ho ancora incontrato il primo ministro ma naturalmente ci siamo trovati a condurre insieme diverse diciamo a portare avanti diverse iniziative e quindi spero di farlo in tempi rapidi e credo che appunto anche sul tema delle migrazioni confermando quello che diceva Tagliani la Grecia come l'Italia come Malta come Cipro come insomma le nazioni che sono state più esposte sono quelle che sicuramente meglio conoscono la materia e meglio possono lavorare per una soluzione nell'interesse per carità di tutti perché poi parliamo di confini esterni dell'Unione quindi è una materia che dovrebbe interessare e che interessa dal mio punto di vista tutti ma sicuramente noi che siamo i più esposti siamo i più interessati e i più competenti per cercare di mettere in piedi una proposta efficace ed è quello che stiamo facendo allora passiamo a Chiara Albanese di Bloomberg Grazie mille in realtà Reuters Bloomberg sono sempre d'accordo sui temi quindi seguo su Telecom si parla tanto di rete unica lei cosa intende esattamente lei e il ministro Giorgetti per rete unica in quanto ci sono varie definizioni e poi velocemente sulla legge di bilancio il testo è già disponibile perché forse non l'abbiamo visto non so quando sarà trasmesso ecco grazie i colleghi devono andare a confartigianato io devo andare al MEF però resto volentieri a rispondere alle vostre domande comunque abbiamo già concordato anche con la Commissione Europea l'invio e tutto quello che serve per quanto riguarda la rete rete unica noi abbiamo detto e ribadiamo che lo Stato deve avere il controllo su quella che è la parte di rete che ha interesse strategico e su cui è giusto che in qualche modo lo Stato abbia questo significa che questa forma di controllo si può esercitare in tanti modi e evidentemente il problema di team è che è integrata verticalmente e ha una parte che diciamo così inevitabilmente deve essere sotto il controllo pubblico quindi mentre un'altra parte teoricamente può essere tranquillamente anche rimessa ai giochi di mercato e questo è diciamo il passaggio complicato che ci aspetta nelle prossime ore per riuscire a trovare una soluzione nell'interesse dei lavoratori di team ma salvaguardando appunto l'interesse generale del paese cioè il controllo pubblico sulla rete l'ultimo Andrea Pira Milano Finanza Sì buongiorno Presidente buongiorno signori Ministri nelle bozze circolate ieri c'era l'ipotesi di tassazione sulle criptovalute e una regolamentazione volevo capire se sia rimasta nel testo finale grazie abbiamo inserito anche la norma sulle criptovalute perché oggi la disciplina non è puntuale ci sono dei provvedimenti dell'agenzia delle entrate che hanno detto che le criptovalute sono assimilate a valute estere invece dobbiamo dare una definizione più puntuale e andarla includere tra i redditi diversi individuando un'apposita disposizione nel contempo visto che non c'era certezza sulla corretta qualificazione consentiamo anche la rivalutazione di queste criptovalute facendo pagare un'imposta sostitutiva quindi si fa chiarezza e al tempo stesso si mette in condizione il contribuente che ha queste criptovalute di effettuare una rivalutazione ringrazio buona giornata ragazzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti